Ciao a tutti amici di App Video Review, oggi andremo a recensire la suite iWork per iPhone iWork composto principalmente da tre applicazioni che sono Keynote, Pages e Numbers tutte e tre sono disponibili su App Store al prezzo di 7,99€, sono universali ed è possibile comunque acquistare solamente quella che ci interessa non è necessario acquistarle tutte e tre, quindi se per esempio ci interessa solamente Pages avremo la possibilità di comprare solo Pages e così via allora andiamo a vedere come si comportano queste applicazioni su iPhone allora partiamo da Pages e come potete vedere questa qua è la schermata principale avremo qua i nostri documenti, in questo caso ne abbiamo tre una prova, l'introduzione principale quando apriamo per la prima volta l'applicazione e un altro documento che ho fatto io di prova prima vediamo allora come è composta questa applicazione abbiamo la possibilità di visualizzare i documenti in ordine di data di modifica o in ordine di nome avremo la possibilità di modificare i documenti quindi spostarli e creare così anche delle cartelle e poi ovviamente selezionandone uno avremo poi la possibilità di cancellare quindi andiamo allora a vedere poi premendo sul tasto più cosa potremmo fare potremo creare un documento prendendo spunto dai modelli che abbiamo già all'interno dell'applicazione oppure copiarlo da iTunes, da iDisk o da WebDev se noi andiamo su Creo documento potremo notare come ci sono vari modelli per appunto scegliere che documento andare a fare avremo la possibilità di fare una lettera con foto moderna, una lettera classica avremo la possibilità di fare un curriculum, una tesina, un invito ad una festa e così via andiamo a vedere un po' a modificare la prova che io ho fatto prima come potete vedere basterà selezionare un punto del foglio per andare a scrivere io ho scritto ciao a tutti ragazzi e andiamo avanti scrivendo un saluto da AVR una volta che abbiamo finito di scrivere basterà premere su fine e poi andrà qui in alto a sinistra scusate potete vedere comparirà avremo anche la possibilità di modificare attraverso il tasto modifica che è questo qua avremo la possibilità di inserire delle foto dall'album fotografico delle tabelle in stile Excel quindi comunque poi dei grafici e forme come ho fatto la prova io prima se adesso proviamo ad inserire questa nuvoletta a mo' di testo basterà semplicemente zoomare un attimo e poi andare anche a dargli la forma e le dimensioni che vorremmo noi una volta che facciamo doppio tap avremo la possibilità di scrivere all'interno e scriviamo ciao giusto perché la fantasia non manca quando abbiamo finito di scrivere all'interno della nuvoletta basterà premere fine e comparirà all'interno del documento una volta che abbiamo deciso che il nostro documento è finito avremo la possibilità di condividerlo e stamparlo oppure premendo su trova basterà se è un documento abbastanza lungo basterà scrivere una parola per esempio ciao e come potete vedere ci darà vari risultati il primo ciao e il secondo ciao e così via impostazione in documento da l'impaginazione appunto la configurazione della pagina righello per modificare i pannelli e i margini poi le impostazioni sono semplicemente riguardanti il controllo dell'ortografia avremo la possibilità di conteggiare le parole le guide del centro e le guide dei bordi andiamo a vedere per esempio un altro modello che potremmo andare a modificare ed ecco qua per esempio proposta progetto qui abbiamo un'immagine all'interno dove noi potremo andare a modificare per esempio io metto questa foto qua che è il mio cane ovviamente e avremo poi la possibilità di una volta toccato due volte la foto la possibilità anche di ridimensionare la foto che poi andrà messa come proposta progetto ovviamente poi qui abbiamo preparato da il nome della compagnia la via, l'indirizzi eccetera eccetera quindi questo è veramente un ottimo modello qua poi c'è riepilogo esecutivo in modo tale comunque da inserire varie caratteristiche del progetto e così via quindi devo dire che come porting comunque essendo un'app universale si comporta oltre che comportarsi bene su iPad veramente è stato ben fatta anche per quanto riguarda iPhone ora invece andremo a vedere Keynote Keynote che si comporta sostanzialmente come come Pages e anche qui io ho fatto delle prove qui sempre a schermata principale avremo le varie presentazioni che abbiamo già fatto oltre all'introduzione quella base che è sostanzialmente la spiegazione su come utilizzare l'applicazione e poi sempre premendo più e sempre andando su Crea Presentazione avremo la possibilità di vedere vari modelli che potremo utilizzare per appunto andare a fare la nostra presentazione quindi prendiamo per esempio questa che è abbastanza carina e anche qua ok avremo la possibilità di modificare un'immagine quindi io prendo sempre un'immagine a caso quindi questa qua e poi basterà premere due volte per andare a scrivere allora scriviamo per esempio Beatrice che è il mio cane Beatrice ok poi andando su Fine per esempio qua possiamo scrivere Milano sempre premendo Fine abbiamo finito la prima slide poi premendo su più avremo la possibilità di selezionare un'altra diapositiva scusate per esempio questa dove andremo ad inserire sostanzialmente tre foto quindi anche qua possiamo scegliere un'altra foto tipo questa ok l'abbiamo scelta la lasciamo così premiamo su Fine questi sono tutti ovviamente esempi per farvi vedere come funziona l'applicazione un'altra cosa molto carina è la possibilità di dare delle transizioni alle varie slide quindi basterà andare su vediamo un po' com'era non mi ricordo più come si fa a dare le transizioni è un bel problema però c'è comunque la possibilità ho un lapsus in questo momento comunque c'è la possibilità di dare anche vari effetti alle transizioni ovviamente se vogliamo fare una presentazione a livello che ne so di programma o comunque se vogliamo esporre dei progetti c'è la possibilità comunque anche di inserire varie tabelle varie grafici e così via come succede con pages se io invece ecco forse qua ero riuscito a fare le varie presentazioni le varie transizioni proviamo a vedere ecco come potete vedere qui avevo dato questa transizione a mo' di libro quindi comunque funziona e funziona soprattutto in maniera veramente impeccabile comunque non non sono lenti i programmi non hanno alcun tipo di lag o di blocco per quanto riguarda magari l'inserimento di un'immagine oppure mentre stiamo scrivendo qualcosa quindi veramente veramente ben fatte andiamo allora adesso a vedere l'ultima delle tre applicazioni che è numbers numbers che sostanzialmente ricalca il programma excel di microsoft quindi avremo come in questo caso una tabella dove avremo la possibilità di inserire vari dati avremo la possibilità di fare più fogli dove anche qui avremo la possibilità di inserire sempre foto tabelle grafici e così via anche qua tocca due volte per modificare il raggio del grafico quindi anche qui poi avremo la possibilità di modificare i vari parametri di modificare i vari nomi la grandezza e così via quindi anche qui avremo la possibilità di vedere vari modelli quindi avremo un foglio vuoto dove andremo ad inserire una tabella oppure un elenco di controllo confronto di presidi e così via quindi sono veramente tanti modelli quindi ricapitolando sono è la suite iWork per iPhone con appunto queste tre universal app disponibili a 7,99€ l'una e devo dire che dopo averle provate sono rimasto veramente colpito comunque dalla facilità di utilizzo e anche dalla bellezza comunque dell'applicazione in sé quindi Apple comunque ha fatto un ottimo lavoro trasformandole in app universali e non rendendole disponibili solamente per iPad bene la recensione si conclude qua io vi saluto ciao a tutti ciao a tutti